Benvenuti nel collegio di Dragon Ball Super. Tutti gli alunni, ovvero Goku, Vegeta e Guerrieri Zeta, dovranno sottostare agli ordini dei professori e del preside. Cosa accadrà in questa puntata? Scopriamolo! Bentornati nel collegio di Dragon Ball Super. Come sapete, il primo episodio di questa nuova serie 2020 è iniziato settimana scorsa. Andate assolutamente a recuperarlo, perché è lì che abbiamo visto chi ha ottenuto effettivamente la divisa del collegio oppure chi non l'ha ottenuta. In realtà per qualcuno c'erano ancora dei dubbi. Stiamo parlando purtroppo di Gohan, il cui riscontro effettivamente dipendeva anche da voi. Costui si merita effettivamente la divisa, quindi facciamo i nostri complimenti a Gohan. Ma voi ragazzi, oltre ai complimenti, lasciate un like, fatevi sentire veramente al massimo, iscrivetevi ora al mio canale YouTube attivando la campanella delle notifiche se volete vedere i prossimi episodi. Ma per i prossimi episodi è veramente importante il like. Dovete farmi capire che sta serie vi piace. In ogni caso, quindi, si guadagna la sua uniforme, che è questa qui, molto simile a quella del padre. Ma c'è un problema, ragazzi, un problema. Crede di essere inarrestabile, che nessuno possa effettivamente toccarlo, e di conseguenza fa una cosa che non avrebbe dovuto fare. Utilizza di nascosto il cellulare che ha portato, appunto, di nascosto nel collegio. Una cosa veramente gravissima, inaccettabile. E purtroppo Gohan viene completamente sgamato dai professori. Questa cosa gli costerebbe l'espulsione. E quindi, ragazzi, ha una sola chance, effettivamente, per non essere espulso. Dimostrare che lui, nonostante questo grave errore, sia una persona matura. Un grande combattente, tra l'altro. E quindi, per fare ciò, deve dimostrare un grande potere e combattere con uno dei professori. Colui che purtroppo l'ha sgamato. Stiamo parlando di Freezer. Non poteva che essere lui. Tra l'altro, lo porta via. Lo porta via e vuole combattere con lui, molto lontano da tutti gli altri collegiali. Forse sa che non sta facendo una cosa molto giusta. E quindi lo affronta. Io, come al solito, vi ricordo che, come in ogni episodio del collegio di Dragon Ball Super, io non gioco. Io non tocco il controller. È la CPU che combatte con la CPU. Quindi, il risultato non è mai deciso. Anzi, tutta la narrazione del collegio di Dragon Ball Super si decide così, direttamente, nel corso dello svolgimento. Gohan sembra voler veramente dimostrare il suo potere, perché, da come avete visto poco fa, ha ottenuto praticamente il potenziale sbloccato. Anzi, ha sbloccato il potenziale, mettiamola così. Però sembra che i suoi attacchi abbiano un effetto non incisivo, perché purtroppo si colpisce, ma, da come notate, Freezer è spietatissimo. Purtroppo sembra che Gohan stia effettivamente pagando per l'errore che ha fatto. Quindi, ragazzi, se viene sconfitto da parte di Freezer, potrebbe effettivamente essere espulso, perché, ragazzi, non si può portare il cellulare all'interno del collegio, ma, attenzione, questa kamehameha devastante sembra far tremare un altro po' Freezer, che non si aspettava questo colpo. Subisce veramente tanti colpi. Freezer cerca di contrattaccare, ma Gohan sembra avere la vittoria in pugno e dimostra di essere un grandissimo combattente. Nessuno potrebbe effettivamente togliergli il diritto di restare all'interno del collegio, ma Freezer non accetta la sconfitta e decreta che lui debba essere espulso. Ma ciò, ragazzi, è contro le regole. Gohan è riuscito a salvarsi e a dimostrare il suo potere. E ora che succede? In lontananza, Goku sente che qualcosa non va. Il figlio effettivamente ha utilizzato molto potere, crede che sia in pericolo, ma raggiunge la zona dello spazio e vede che c'è Freezer che vuole espellere il figlio. Ovviamente il figlio ha fatto una cosa sbagliata, però è riuscito a farsi valere, quindi non dovrebbe essere espulso. Il padre, che tra l'altro è un altro collegiale, vi ricordo, decide quindi di affrontare lui stesso Freezer. E se lo sconfiggerà, andrà in ogni caso a proteggere il figlio e quindi non verrà più espulso, perché ci sarà anche un testimone, no? Freezer si infuria in maniera totale. Come avete visto, sta utilizzando la massima potenza e di conseguenza tra professore e in pratica alunno incominciano ad esserci già delle incomprensioni. Qualcosa si sta già smuovendo in una maniera negativa per i collegiali che si stanno inimicando uno dei professori più cattivelli, diciamocelo, perché come sappiamo Freezer ha un carattere veramente pessimo e potrebbe dimostrarlo proprio in queste fasi. Per cui Goku ha osato veramente tanto. Doveva stare un attimino attento perché questa cosa potrebbe costargli l'espulsione. E infatti Freezer nel corso del combattimento gli fa notare una cosa molto spiacevole. Gli dice che, ok, potrebbe, potrebbe effettivamente far riammettere il suo figlio nel momento in cui Goku riesca a sconfiggerlo, ma, d'altro canto, se Goku viene sconfitto, deve essere espulso insieme al figlio. Guardate le due supreme che potrebbero scontrarsi, ma Goku riesce a fermare il suo avversario, gli distrugge il vigore, ma qui sembra essere confuso. Che come ti avvicini? Goku, avvicinati per bene! Fagli un attacco purtroppo, recuperate il vigore. Goku veramente sciocco qua, per non dire cose un attimino più, eh, più colorite. Guardate come subisce, lui è pure poco vigore. Ragazzi, Freezer è veramente cattivo, ma viene sconfitto! Ragazzi, viene sconfitto e quindi Goku e Gohan sono riammessi nel collegio. Però voi sapete bene che c'è Vegeta che non sa mai farsi i fatti suoi. Vegeta in pratica vuole combattere e trova una scusa veramente incredibile e anche scorretta nei confronti di Goku e Gohan. In pratica dice a Freezer che Goku è stato scorretto, perché ha utilizzato il Super Saiyan Blue contro Freezer stesso che aveva solo la massima potenza, non aveva la trasformazione dorata. Per cui il tutto è vanificato, va cancellata quella sfida perché non era pari, no, a livello di potenza. Quindi Goku e Gohan tornano a rischio di espulsione perché appunto Freezer accoglie ovviamente la richiesta da parte di Vegeta e quindi anche Vegeta potrebbe, in realtà, dovrebbe stare molto attento perché anche lui potrebbe essere espulso. Freezer non aspettava altro, inutile dirlo. Per cui ragazzi, tutt'ora è da vedere. Freezer, ovviamente, è arrabbiatissimo, potentissimo, però attenzione! Vegeta possa... sembra che possa effettivamente vincere. Per cui questo azzardo potrebbe non condannare effettivamente Vegeta che però, oh, 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 fermi tutti, perde il vigore. Le sue difese vengono scalfite in maniera totale, anzi distrutte e cade veramente un altro po' sulla terra. Però si riprende, finalmente si riprende. Vegeta scatenatissimo, continua ad attaccare l'avversario e ragazzi, questa ad un certo punto diventa quasi una ribellione nei confronti dei professori che, come vedete, ragazzi, stanno abbuscando, o meglio, Freezer sta abbuscando, ma finalmente si difende e riprende un attimino la situazione in mano da professore che è e non può assolutamente farsi sconfiggere da un allievo, anche se l'ha sconfitto Gohan e l'ha sconfitto Goku. Freezer, devi un attimino rivedere i tuoi poteri e dovresti anche allenarti. Riesce comunque a difendersi, guardate un po', attenzione che colpi! Incredibile! E viene sconfitto, ragazzi, Vegeta viene ufficialmente sconfitto. Nulla da fare, ciò mette a rischio non solo Vegeta, ma anche Goku e Gohan. Guardate che responsabilità c'ha addosso adesso Vegeta stesso. Zeno, che tutto vede e tutto sa, ha organizzato lui il collegio, no? Magari lo sapete da quello che vi dico all'inizio del video. E di conseguenza ha visto in lontananza tutto quello che succedeva e non vuole assolutamente che Goku e Gohan siano espulsi per una scorrettezza. Si è reso conto che il tutto era una scusa da parte di Freezer per espellere tutti quelli che erano i collegiali, visto che Gohan si era riguadagnato la possibilità di restare all'interno del collegio, nonostante una sua scorrettezza, e di conseguenza Freezer viene ammutolito. Deve assolutamente accettare che tutti questi collegiali restino all'interno del collegio e quindi, per fortuna, il tutto si risolve. Ma sicuramente succederà qualcos'altro nel prossimo episodio. Di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like se veramente lo volete. Iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando qua al centro. Guardate altri video cliccando qui a destra e a sinistra e il prossimo episodio arriverà settimana prossima con cose molto divertenti, vedrete. Alla prossima, ciao!